Ben trovati a numeri 1, una serie di appuntamenti nati per festeggiare quelli che sono i vent'anni del nostro canale, i vent'anni di classe CNBC e in tutti questi anni sono davvero passati tanti numeri 1 che hanno fatto la storia del nostro paese con le loro storie aziendali di successo. 20 anni e anche l'età degli studenti universitari che si collegheranno tra poco con noi ed è l'augurio che noi facciamo a loro quello di fra vent'anni essere qui sul nostro canale, essere intervistati proprio da noi per raccontarci quelle che saranno le loro storie di successo. Allora andiamo con ordine, vado a presentare il numero 1 di questa puntata, un bentrovato a Davide Marchini, General Manager e Amministratore Delegato di Strauman Group Italia, azienda attiva nel settore dentale. Bentrovato! Grazie, ben trovato a voi! Andiamo a salutare anche gli studenti, dicevo, delle principali università italiane, eccoli qui, allora un bentrovato a Onofrio Loconsole, un saluto a Vincenzo Di Leva, un saluto a Nico Camporeale, Carmen Calella e Saverio Nicasso. Ciao ragazzi, torno da voi tra pochissimo per le domande, so che avete un sacco di curiosità e allora tra poco arrivo da voi. Dicevamo, Strauman ha sede a Basilea, è leader globale per le soluzioni implantali, restaurative e rigenerative in odontoiatria, ricerca, sviluppa, produce impianti dentali e i prodotti e le soluzioni e i servizi di Strauman sono disponibili in oltre 70 paesi nel mondo. E dunque, dottor Marchini, in che modo, qual è la chiave del vostro successo, in che modo siete diventati leader in questo settore? Allora, la storia di Strauman è una storia che è relativamente recente rispetto ad altri gruppi, anche non solo nel dentale, è una storia che è iniziata nel 1954. Però in tutto questo tempo, in questi 70 anni, è riuscita a mantenere, a guadagnare molto rapidamente, a mantenere la leadership, giocando su sostanzialmente tre cose. Innanzitutto la qualità, una qualità senza compromessi nel prodotto, nel servizio, sempre, come dire, costante in tutto quello che abbiamo fatto nelle nostre strategie in questi 70 anni. La seconda cosa, legata alla qualità, sicuramente l'innovazione. Abbiamo innovato costantemente sia nel comparto degli impianti dentali, ma anche recentemente nella digitalizzazione e nell'ortodonzia. E soprattutto quello anche di aver sempre creduto e messo in atto una forte partnership con i nostri clienti, con i dentisti, con il KOL con cui lavoriamo, le società scientifiche. Creando sicuramente una sinergia strategica, quasi, mi vorrebbe dire, un ecosistema strategico che ha al centro la qualità. Grazie a questo, ancora oggi e ogni anno conferiamo una leadership in questo importante settore della salute per i pazienti. Ecco, allora, lo diceva poco fa anche lei, il settore dentale, come tanti settori, sta attualmente vivendo un profondo cambiamento. La digitalizzazione è senza dubbio importantissima. Da questo punto di vista, per il futuro, come vede il settore? Allora, la digitalizzazione sicuramente non solo nel nostro comparto. Io vengo anche, ho lavorato nel fast moving, ho lavorato nel pharma. È la grande scommessa di tutte le industrie negli ultimi vent'anni. Nel caso del settore odontoiatico, dentale, lo è perché, come dire, ci permette di raggiungere in maniera efficace ed efficiente la comunicazione, i nostri clienti e tutti i nostri partner, ma soprattutto tutto quello che noi cominciamo e offriamo ai dentisti e ai laboratori, permette loro di, come dire, migliorare, rendere più efficiente ed efficace il flusso che parte dalla progettazione del trattamento fino alla, come dire, alla realizzazione finale e al servizio finale, al trattamento finale per il paziente. Quindi, di nuovo, la qualità al centro, con in più l'efficienza, l'efficacia che è la digitalizzazione rispetto ai trattamenti, diciamo così, più tradizionali, le impronte più tradizionali, per esempio, permette di portare. È una scommessa di tempi, di efficacia e di qualità del trattamento. La portiamo avanti sia con prodotti e con servizi, tecnologie nostre, sia in partnership con aziende importanti del settore come 3Shape, quindi permette anche di creare, come dicevo prima, un ecosistema che mette al centro la qualità per il paziente e lo fa in maniera efficace ed efficiente. Quest'anno c'è stata una forte accelerazione, dovuta soprattutto alla pandemia che stiamo tutti vivendo, perché ovviamente la digitalizzazione rispetto ai trattamenti più tradizionali permette ancora di raggiungere standard di sicurezza, diciamo, per il paziente, ma anche per il dentista, ancora più elevato e quindi ovviamente questo ha dato un forte impulso alla digitalizzazione degli studi e dei laboratori. Oggi come Paese siamo ancora a una percentuale che rispetto alle medie europee ha grandi spazi di crescita, siamo al 18% degli studi digitalizzati, però ovviamente questo non basta, possiamo fare oltre, possiamo andare a digitalizzare ancora di più la realtà dentale italiana e lo stiamo facendo appunto in partnership piena con studi e laboratori. Quindi, dicevamo, quest'anno, nel contesto della pandemia, la digitalizzazione ha avuto un ottimo impulso, però sicuramente è qualcosa che accelera quest'anno e rimarrà anche negli anni a venire, perché oltre al tema dell'urgenza, diciamo così, sanitaria, poi la digitalizzazione permette di conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia che sicuramente rimarranno importanti negli anni a venire. Quindi è sicuramente un valore aggiunto che ci porteremo avanti e che dobbiamo portarci avanti nel futuro. Io direi, dottor Marchini, di aprire la finestra con i nostri studenti, perché so che hanno un sacco di curiosità, di domande da fare lei. Allora, direi di partire, vado a caso, Onofrio, Onofrio lo console. Eccoti qui. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Le volevo porre una domanda. Nel contesto attuale, dove il distanziamento fisico ci ha costretto a coltivare delle relazioni utilizzando dei mezzi digitali, quale ruolo giocano i canali social e la più ampia comunicazione online nel mix di comunicazione strategica nei confronti dei clienti di Stroman Group? Grazie. Dottor Marchini, ovviamente gli studenti, vista anche l'età, sono molto interessati e legati al discorso dei canali social. Da questo punto di vista cosa ci dice? Ma allora, grazie per la domanda innanzitutto. È una delle mie grandi scommesse strategiche da quando sono, diciamo, al timone di Stroman in Italia. La comunicazione digitale, come dicevo prima, è qua per cambiare, reinventare il business, tutti i business, e anche la strategia dell'azienda. Lo è in tutti i settori in cui l'azienda crea il valore nel nostro paese. Prima di tutto nella comunicazione, come diceva giustamente lei, i canali social, i canali di comunicazione digitale, programmatica, permettono di arrivare a un numero sempre maggiore, sia di dentisti, quindi di professionisti, ma se allargo tutte le industrie, anche di consumatori e pazienti, in modo efficace, in modo quindi con messaggi efficaci, rilevanti per il consumatore, ma anche efficienti ovviamente dal punto di vista dei tempi e dal punto di vista dei costi, con un elevato livello di ingaggio e di, diciamo così, motivazione, che è proprio propria di quel tipo di comunicazione. Quindi sicuramente sta cambiando il marketing anche di aziende B2B, come la nostra, e ovviamente a maggior ragione di altre aziende B2C, ma non è anche a livello 20. Durante la prima fase di lockdown quest'anno abbiamo fortemente trasformato la nostra comunicazione ai clienti, ai nostri clienti, ai nostri partner, utilizzando per esempio migliaia di ore di webinar, abbiamo coinvolto più di 6.000 clienti in piattaforme di educazione, in piattaforme di comunicazione, di presentazione di prodotti e di servizi e questo ha permesso ovviamente di non fermarci come azienda, di continuare la comunicazione in un momento in cui sarebbe stato impossibile farla in maniera fisica. Tenga conto che tradizionalmente il B2B, la nostra industria in particolare, si è affidata a congressi, ad eventi dal vivo, quindi sul territorio nazionale e questo ovviamente se non avessimo avuto il grande strumento, il potente strumento della comunicazione digitale, non avremmo dovuto fermare la nostra comunicazione in tutti questi mesi. Quindi l'abbiamo fatto, abbiamo prodotto e sviluppato piattaforme, migliaia di ore di webinar e questo ci ha permesso di cominciare in maniera molto più forte quando poi il lockdown si è fermato. Come dicevo prima, è una trasformazione marketing, vendite, supply, ma non solo, che è stata accelerata quest'anno ma che rimarrà in futuro perché di nuovo l'efficacia e anche l'efficienza in termini di tempi e costi del digitale sarà sicuramente un'arma di competizione molto forte per il futuro e per gli anni a venire. Dottor Marchini, allora, si parla spesso di qualità come tratto distintivo per un'azienda. Voi siete numeri uno, qual è la vostra qualità? La nostra qualità è una qualità che permette di vincere a tutti gli attori coinvolti nel settore. È una qualità che noi abbiamo nella nostra mission, nella nostra vision, quindi al nostro impegno. Noi vogliamo giocare, l'abbiamo sempre fatto, dal 1954, puntando sulla qualità dei nostri servizi, dei nostri prodotti. è un'arma, uno strumento che permette al dentista di offrire una qualità senza compromessi al paziente e va di bene. La qualità non è una scommessa sul breve, ma una scommessa sul lungo. Perché, le faccio un esempio, un impianto di qualità e i nostri impianti permettono di avere quasi il 100%, comunque poco sotto il 100% diciamo di successo. Un impianto di qualità permette nel tempo al dentista di non avere, come dire, dei fallimenti nelle trattamenti che ha implementato e quindi ovviamente una ricorduta molto positiva in termini di riproduzione, ma soprattutto non deve richiamare il paziente con un ulteriore trattamento e quindi anche economicamente è molto vantaggiosa. Quindi è una partita sicuramente importante e di vincita per il dentista e ovviamente non possiamo dimenticare il paziente un trattamento di qualità, per esempio di nuovo un impianto di qualità permette ovviamente al paziente di avere un sorriso bello e che duri per sempre. Quindi sicuramente anche per lui è un valore aggiunto. Quindi qualità vuol dire valore per tutti gli attori coinvolti nell'industria, non ultimo ma anzi per primo il paziente. Assolutamente. Vado dai ragazzi e vado da Carmen, Carmen Calella. Magari raccontateci anche da che università arrivate. ecco Carmen a te la parola. Io vengo dall'Università LUM di Casa Massima e volevo parlare al dottor Marchini la seguente domanda. Voi siete leader nel campo scientifico ma anche nella vostra squadra c'è spazio per chi non ha un background scientifico ma ha un background e un curriculum di natura o umanistica o economica come noi. è interessante questa domanda. Io faccio lettere moderne per dire poi dopo riesco a venire a lavorare da voi? Allora è un'ottima domanda anche perché molte volte sì un'azienda può avere un punto di forza nella ricerca scientifica o nella qualità come nel nostro caso piuttosto che nelle leve commerciali come nel fast moving però credo che un'azienda come la nostra come tutte le aziende abbia il suo punto di forza nelle persone nello sviluppo delle persone dei talenti delle persone quindi questa è diciamo la materia per il successo di tutte le aziende quindi per esempio anche una persona di talento con background umanistico non può che essere chiave in un'azienda come la nostra che delle persone ha il punto di forza in campi come per esempio le resource umane il learning il talent development ma anche la comunicazione perché alla fine ho in mente casi di successo di persone in questa esperienza nelle corse precedenti di esperienze di persone con background umanistico che hanno fatto dei grandi successi dalla comunicazione aziendale sia di brand che di corporate che di PR ufficio stampa perché alla fine ovviamente anche la come dire la comunicazione è lo storytelling no? è costruire una storia rilevante di successo quindi ovviamente anche da questo punto di vista non solo quello delle risorse umane un background umanistico può essere veramente il punto di forza quindi assolutamente la diversity e la ricchezza di un'azienda si fa anche con un background umanistico e ho assolutamente in mente persone di successo sia nelle char che nella comunicazione che anche in altri campi aziendali che avevano un background umanistico quindi assolutamente è come dire convinto c'è speranza c'è speranza Carmen c'è speranza manda il curriculum lo so se chissà mai allora dottor Marchini invece io vorrei puntare un pochino più ai prodotti c'è un prodotto in particolare su cui state puntando allora sicuramente noi veniamo da una forza importante da una leadership importante negli impianti dentali dove e quindi nell'estetica dentale questo è molto importante perché Strauman gioca nel campo dell'estetica dentale cioè di un bel sorriso e quindi noi siamo forti e veniamo dal mondo degli impianti nel 2017 abbiamo però acquisito forti proprio di questo posizionamento di questa mission nell'estetica dentale il secondo player al mondo di ortodonzia invisibile di allenatori invisibili che si chiama ClearCorrect l'abbiamo acquistato nel 2017 e da allora stiamo puntando a costruire crescenti quote di mercato in tutti i mercati questo ci permette di completare diciamo così la nostra mission di estetica dentale a partire dagli impianti ma anche dall'allineamento e dal miglioramento estetico del sorriso attraverso appunto gli allenatori trasparenti questa è una realtà in crescita in forte crescita in tutti i paesi a partire dall'America e dagli Stati Uniti dove sono un mercato una realtà molto importante ma anche in Italia tenga presente che solo in Italia ci sono più di 80.000 casi di allenatori invisibili quindi di ortodonzia invisibile nel 2019 quindi un mercato sicuramente in crescita dove puntiamo di aumentare la nostra quota di mercato sempre giocando ovviamente la nostra partita quella della qualità dell'innovazione e della digitalizzazione allora stiamo vivendo ormai lo sappiamo un periodo molto particolare in un contesto economico davvero incerto per quale motivo un dentista dovrebbe affidarsi a Strauman? Proprio perché credo e questo ne sono molto convinto è stato un periodo difficile e credo che i dentisti abbiano trovato in noi un partner importante un partner di qualità di fiducia preoccupato non solamente degli obiettivi di breve ma anche di aiutarli a costruire una fase importante per i dentisti a cui tra l'altro approfitto faccio assolutamente i complimenti per come hanno affrontato la crisi non era scontato perché il dentista era particolarmente sensibile in un momento di pandemia a trasmissione orale però si sono preparati si sono assolutamente come dire messi in opera con molta entusiasmo e con molta fiducia si sono equipaggiati con i sistemi di protezione individuale ed oggi credo che i pazienti hanno una assolutamente immutata e consolidata fiducia del dentista per il partner e per il proprio sorriso quindi detto questo Strauman si è posto al lato dei dentisti in questo periodo difficile come partner ci siamo preoccupati dicevo non soltanto di obiettivi di breve abbiamo fornito al dentista mezzi strumenti come dispositivi appunto di protezione individuale come gli strumenti e sopra della digitalizzazione per permettere ai dentisti di affrontare questa crisi ma anche di prepararsi al meglio per il futuro scommettere sulla qualità dicevo prima è una scommessa non di breve ma una scommessa di lungo significa non pensare tanto al vantaggio come dire immediato di comprare magari un impianto di bassa qualità ma scommettere su un impianto di alta qualità che vi permette nel tempo di avere una reputazione sempre crescente dei nostri pazienti e di non avere richiami di non avere fallimenti dei trattamenti effettuati e quindi anche economicamente assolutamente vantaggioso commettere su lungo è stata in questo momento la battaglia giusta e che ci ha permesso di essere al lato dei dentisti e della battaglia vado ancora dagli studenti allora vado con Vincenzo Di Leva innanzitutto da che università arrivi Vincenzo buongiorno a tutti dall'alumbo e anche io da casa Massimo vai con la domanda buongiorno dottore volevo chiederle l'ho detto anche lei abbiamo vissuto a marzo con il lockdown e viviamo tutt'oggi la situazione legata alla pandemica diffusione del covid-19 in forza di questo io le chiedo quali insegnamenti avete voi mutuato dalla conseguente recessione economica e quali azioni predisposte in risposta adesso grazie allora noi abbiamo ovviamente come molte industrie o forse più di altre industrie ringrazio per la domanda perché questo è una è stato un anno molto come dire interessante forte ed è importante fare il punto della situazione abbiamo vissuto un trimestre 2 particolarmente impattato dalla pandemia e dal trimestre 3 invece una ripresa che poi si è consolidata nel trimestre 4 quindi è stato un po' un anno a due tempi con la pandemia sempre al centro del nostro scenario gli insegnamenti sono stati prima di tutto non cedere al panico e quindi inseguire il risultato di breve quest'anno non è un anno non è stato un anno per inseguire un risultato di breve il gruppo nella sua interezza non soltanto la filiale italiana ha deciso di scommettere sul lungo termine quindi mantenendo i piani di innovazione che sono forti importanti per l'anno prossimo abbiamo continuato a investire nei progetti di innovazione mantenendo come dicevo prima la comunicazione anche in movimenti di remota digitale utilizzando i mezzi della digitalizzazione con i dentisti con i nostri partner e lavorando soprattutto di partnership quindi abbiamo contattato in maniera molto come dire frequente anche nel momento di lockdown più duro i nostri clienti i nostri partner chiedendo di cosa avessero bisogno fornendo dispositivi di protezione individuale mantenendo la relazione umana che è al centro di ogni relazione di rendita e la relazione di partner grazie a questo come dicevo siamo usciti rafforzati con i nostri piani di innovazione con i nostri piani di comunicazione e con una partnership addirittura forse più rafforzata con le persone con i dentisti con i laboratori che in Italia ci hanno permesso di superare questa fase il covid non è passato continua in fasi alterne però questa parcia rafforzata ci sta permettendo di affrontare al meglio sia anche dal punto di vista dei risultati economici ma anche dal punto di vista delle relazioni in momento vado ancora avanti con i nostri studenti Nico Nico Camporeale buongiorno salve vengo anch'io dall'alumma di casa massima volevo ringraziare l'anzotto per la interessante generosa introduzione che lei ci ha fatto la mia domanda è quindi quale opportunità e soprattutto quali prospettive di carriera può offrire la Straman Group a noi giovani grazie Straman Group è un'azienda globale presente in più di cento paesi ha strutture in più di settanta paesi ha una struttura regionale in Europa a Basilea una struttura globale e poi a filiali come la nostra che sono filiali complete in cui c'è sicuramente un team commerciale importante perché siamo una filiale commerciale c'è un team di marketing altrettanto importante finance HR tutte le funzioni aziendali sono rappresentate in ogni singolo paese quindi per una persona che abbia talento voglia di crescere voglia di scommettere sul proprio futuro Straman sicuramente ha tantissime opportunità sia a livello locale appunto con background come dicevamo anche diversi non soltanto i classici background commerciali ma anche background umanistici sia a livello centrale nelle nostre strutture di Basilea sia nei vari paesi in cui operiamo è un'azienda che crede nel talento è un'azienda che crede nella crescita professionale nel learning lo mettiamo sempre al centro e soprattutto è un'azienda che appunto ha tante opportunità di crescere è un'azienda grande con tanti paesi molto strutturata però devo dire è un'azienda che ha mantenuto un po' uno spirito da start-up con un forte accento e una forte focalizzazione locale quindi c'è anche nelle filiali diciamo di country come la nostra c'è molta possibilità di reinventare inventare crescere costruire valore con molta autonomia quindi questo sicuramente la rende molto interessante a ragazzi che vogliono esprimere anche la propria creatività professorale non soltanto la propria crescita quindi assolutamente la raccomando sono super aperto da ricevere curriculum e proposte di collaborazione inviate il curriculum al dottor Marchini insomma è stata una chiacchierata importante per voi a parte gli scherzi chiudiamo il giro che poi non scherzo mandatelo il curriculum assolutamente chiudiamo il giro degli studenti con Saverio Nicasso eccolo qui ciao Saverio un saluto a tutti in particolare al dottor Marchini io sono uno studente di amministrazione finanza e controllo in LUM partirei con la domanda essere un numero uno comporta anche responsabilità su come si influisce con le proprie strategie sulle scelte del mercato dei competitors Stroman Group in che modo esercita questa influenza grazie grazie a te una domanda di nuovo molto importante essere leader di mercato credo in tutte le industrie comporta una forte responsabilità che è quella di far crescere il mercato in maniera molto semplice di portare valore e di far crescere il mercato questo credo noi lo facciamo e lo sentiamo molto nostro sia dal punto di vista banalmente dell'innovazione perché ogni anno portiamo prodotti e servizi nuovi che aggiungono valori quindi che come dire aggiungono servizio aggiungono innovazione e qualità ma lo facciamo anche attraverso collaborazioni importanti abbiamo una rete di KOL che lavorano con noi in tutto il paese in tutte le regioni lavoriamo con società scientifiche come ITI è una associazione scientifica con cui collaboriamo dal 1980 che raccoglie le più grandi menti dal punto di vista del settore odontoiatrico in tutto il mondo con congressi annuali con studi con ricerche scientifiche che portano di nuovo valore nel mercato lavoriamo con le associazioni dei dentisti in Italia e soprattutto attraverso le nostre campagne di comunicazione che continuiamo e che portiamo avanti tutto l'anno cerchiamo di come dire di portare avanti la bandiera della qualità naturalmente di nuovo nel nostro core business degli impianti gli impianti non sono tutti uguali ci sono impianti che con l'investimento scientifico e con l'innovazione e con le ricerche portano risultati migliori rispetto ad altri e che quindi sono la scommessa vincente per i dentisti ma soprattutto per i pazienti quindi la qualità è sicuramente come dire il campo di gioco e la responsabilità di far crescere il mercato da parte di Strauman E allora intanto un'ultima domanda visto che siamo quasi in chiusura gliela vorrei fare io perché voglio proiettarmi verso il futuro visto che vent'anni di classe NBC vent'anni insomma è il numero di questa nostra trasmissione fra vent'anni Strauman dove e come si vede? Fra vent'anni Strauman sarà ancora numero uno vi verrebbe da dire quindi numero uno nell'estetica dentale che è la nostra mission la nostra vision saremo numero uno continueremo a essere numero uno nel settore degli impianti dentali nella digitalizzazione ma saremo numero uno anche nell'ortonozia invisibile nell'ortonozia che è il nostro battaglia oggi nel mercato Strauman avrà guidato la crescita dei mercati in cui opera attraverso la scommessa sulla qualità avrà portato valore attraverso innovazione attraverso comunicazione avrà convinto i dentisti che gli impianti la qualità degli impianti la qualità in generale dell'odontoiatria è la scommessa vincente e avrà riportato il sorriso la fiducia in se stessi in milioni di pazienti in tutto il mondo non l'ultimo l'Italia e allora festeggeremo i prossimi quarant'anni di classe NBC insieme con una nuova intervista con un altro numero uno sempre Strauman però magari a parte tutto ci vediamo un po' prima di vent'anni no dottor Marchini va bene allora intanto grazie di essere stato qui con noi io ringrazio il dottor Marchini ringrazio soprattutto e faccio i complimenti agli studenti che sono intervenuti oggi perché le domande erano molto azzeccate mi raccomando curriculum inviateli perché insomma avete avuto la possibilità di parlare direttamente con l'amministratore delegato di Strauman Davide Marchini grazie agli studenti grazie al dottor Marchini grazie soprattutto a tutti voi di averci seguito appuntamento alla prossima puntata dove scopriremo chi è il prossimo numero uno